Ciao a tutti. Ciao a tutti da Betrice Frangione e benvenuti in questa nuova puntata di Sport Today. In questa puntata, come ci siamo divertiti già a fare in qualche altra puntata precedente, vogliamo andare a scavare ancora una volta nel passato della Formula 1 andando a parlare di chi 50 anni fa ha dato il via ad un'esperienza che avrebbe cambiato per sempre la propria carriera nel mondo della massima serie e anche un po' la storia della scuderia che ha deciso di puntare sul suo talento. Prima però di andare a trattare il tema di oggi, devo assolutamente chiamare in causa il mio compagno di squadra, Luca Preti. Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao Luca, benvenuti. Ciao Beatrice. Grazie per avermi detto qualcosa prima stavolta perché il mio cuore non reggeva tutte le sorprese come le ultime puntate, quindi a un anziano bisogna fare questi piaceri, quindi vi lascio cominciare. Ma che anziano che sei un giovanotto. Allora, come ho detto nell'introduzione di questa nostra chiacchierata, ricorre un anniversario abbastanza importante perché siamo nel 2024 e ben 50 anni fa, caro Luca, nel 1974, precisamente il 13 di gennaio, la Formula 1 si trova a Buenos Aires per disputare il Gran Premio d'Argentina. Perché ti parlo proprio di questo Gran Premio? Perché sulla griglia di partenza di Buenos Aires si intravede all'interno dell'abitacolo di una Ferrari 312 B3 numero 12 un casco che rimarrà iconico per sempre, quello di Mickey Lauda. Mickey non vincerà la corsa in Argentina, quindi di fatto il Gran Premio d'Argentina non sarà significativo per la sua prima stagione vestito di rosso, perché arriverà secondo alle spalle del pilota della McLaren, Denis Salm, ma chiuderà davanti al compagno di squadra in Ferrari il ritorno di Clay Regazzoni. È sicuramente un inizio che segnerà un'era, un'era secondo me tra le più belle che la scuderia Ferrari abbia mai avuto e sicuramente è molto interessante andare a parlare di questo pilota perché ha segnato secondo me l'inizio anche di un nuovo modo di interpretare l'essere pilota, ma lo voglio chiedere a te che cosa può aver rappresentato Mickey Lauda negli anni in cui è stato in Ferrari. Allora cominciamo con la sorpresa che ti faccio io stavolta, guarda che meraviglia, guarda che bella foto che sono andato a ritrovare, che due ragazzini proprio, ma a me piace guardare anche attorno, loro due sono stupendi e lo sguardo di Mickey secondo me è la spiegazione più forte del rapporto che c'è stato con la Ferrari, un amore incredibile ma un voler ribadire la sua forza sempre e in quello sguardo se tu vedi c'è amore ma una presa di distanza quasi in tutta la sua storia che poi racconterai spero, però sì effettivamente lui ha rappresentato un momento incredibile della Ferrari perché uscivamo da un altro periodo un po' deludente, io avevo cinque anni e mezzo quando lui è arrivato, quindi ho dei ricordi molto sbiagiti ma ricordo perfettamente che lui è l'inventore di quella che io definisco la guida da ragioniere nel senso che non sempre si può vincere o da ingegnere diciamo così perché è un po' più moderno, non sempre si può vincere quindi quando non si può vincere raccolgo tutti i punti che posso raccogliere, questo lo ha fatto fino al suo ultimo anno in Ferrari dove invece non ha fatto questo ma forse lo diciamo dopo, però effettivamente sì era incredibilmente regolare, veloce perché sapeva essere veloce quando ne aveva voglia, non era un pilota spettacolare da quello che ricordo io ma un pilota su cui contare e su cui poter vincere mondiali come è successo e credo che abbia anche dato tantissimo dal punto di vista organizzativo alla squadra dal lato pilota, cioè non che lui abbia insegnato alla squadra ad essere più organizzati perché in quegli anni poi cominciano anche le rivoluzioni di Montezemolo nell'organizzazione della squadra in un modo più, qualcuno l'ha definito anglosassone secondo me invece non è così, è proprio per quello che noi siamo stati più forti ma essere un po' più precisi e meno improvvisati nel esplicitare questa nostra fantasia all'italiana perché in quegli anni abbiamo visto uscire delle innovazioni tecniche pazzesche, bastava dare fiducia a quel mago di un ingegnere che ci ha lasciato pochissimi mesi fa, un anno fa, due anni fa adesso non ricordo più preciso. È passato un anno, Mauro Forghiero ovviamente stiamo parlando. E lui libero di fare ha fatto quello che vediamo fare da Adrian Newy oggi secondo me, era l'Adrian Newy di quei tempi perché tu hai parlato della 312b ma che è stata sostituita con quella che poi vincerà il mondiale con un'innovazione tecnica incredibile che era il cambio a T, trasversale posto sull'asse posteriore. Quindi allora una cosa incredibile, l'alettone molto evidente. Quindi ha degli anni di evoluzione stupende e degli anni di evoluzione dei team, delle squadre di organizzazione bellissimi. E proprio per parlare di organizzazione, come hai giustamente detto tu, la Ferrari si trovava in annate abbastanza buie. Era dal 64 da John Sertis che la Ferrari non vinceva mondiali. Dopo l'era di Sertis con Lauda si va a vincere il mondiale poi ufficialmente nel 75, tra l'altro con una doppietta fantastica a Monza, andando anche a conquistare piloti e mondiale costruttori. Una scelta quella di Luca Cordero di Montezemolo di puntare su Michi Lauda anche grazie ai consigli di Clare Gazzoni, perché Clare Gazzoni aveva militato per un anno in BRM, si parla quindi della stagione del 73, e Montezemolo che si trova come neodirettore sportivo di Maranello decide di portare aria fresca. C'era bisogno di qualcosa di nuovo e vede anche sotto il consiglio di Regazzoni, ma anche sotto il consiglio di Ferrari stesso, perché dopo il Gran Premio di Montecarlo rimane folgorato dalla prestazione di Lauda che riesce a sorpassare Jackie X su Ferrari in pista e dice no, quel ragazzo deve essere mio. Segretamente Luca Cordero di Montezemolo si incontrerà con Michi Lauda, l'incontro avverrà all'aeroporto di Linate a Milano in un bar dove cercherà di mettersi d'accordo per un eventuale contratto. La chiamata a Michi viene passata dalla sua segretaria, Michi dopo Montecarlo si era recato a Salisburgo dove aveva una sua officina, e la segretaria è tutta agitata, gli dice guarda devi assolutamente chiamare perché abbiamo ricevuto una chiamata, che ha chiamato? Ma un certo signor Monteprezzolo. Lauda si ferma e dice no, sarà stato Montezemolo. Montezemolo, Ferrari, Maranello, allora da lì avviene il contatto, il primo contatto tra questi due, questa coppia fantastica perché poi legheranno tantissimo sia a bordo pista di Fiorano dove effettivamente Michi dal momento in cui lui sale nell'abitacolo della Ferrari per tutta la pausa invernale non ne uscirà più e tra i due si creerà un bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo legame. Lo sappiamo, la storia poi racconterà di un 74 dove chi dei due ferraristi sarà in lotta per il titolo sarà Clare Gazzoni, andrà poi a chiudere nell'ultima gara del campionato, si correrà negli Stati Uniti, arriverà con l'avversario McLaren Fittipaldi a pari punti e quindi lì poi si deciderà un mondiale che verrà poi aggiudicato dallo stesso Fittipaldi. In realtà poi la firma del mondiale rosso arriverà, come abbiamo detto prima, nel 75, ci sarà questa strepitosa doppietta, un anno super mega dominato, il 76, beh, io penso che sia l'anno più che altro della rappresentazione dell'eroe che vive due volte perché dopo l'incidente, il bruttissimo incidente del Nürburgring, dopo solamente 40 giorni, Michi decide di tornare in pista e lo fa a Monza, arriva a quarto, viene abbracciato dai tifosi, lo fa in maniera veramente eroica, una prestazione eroica. Sappiamo bene che poi quell'anno a vincere il mondiale sarà James Hunt e non Michi Lauda, però poi Michi Lauda riprenderà ciò che il 76 gli ha tolto nella stagione 77, dove però il suo rapporto con Maranello e soprattutto con il Drake sarà decisamente diverso perché qualcosa nel 76 si era già rotto, nel senso che essendo poi sostituito da Carlos Reutman questa cosa, Michi non l'accetterà, non la prenderà di buon grado e quindi il legame con Enzo Ferrari si andrà poi a deteriorare fino a quando ancora prima di chiudere il mondiale deciderà di andare via e di passare in altri lidi. Una cosa però mi permetto di aggiungere in tutto questo, che nonostante il tipo di legame e come è andata poi la sua storia con la Ferrari, Michi non ha mai smesso di stupire nel corso della sua vita, soprattutto nell'ultimo momento che lo ha avvicinato al saluto terreno, il suo ultimo saluto, perché lui poi per sua volontà ha deciso di essere tumulato con la tuta rossa dei tempi in cui vinse con la Ferrari, quindi questo è segno di un fortissimo legame con l'Italia e con Maranello e con quello che è stata la scuderia, perché di fatto lui è diventato campione del mondo in Formula 1 principalmente con la rossa, poi ha conquistato un altro mondiale con la McLaren, però penso che sia stata la sua era in Ferrari quella che può aver cambiato per sempre la sua carriera in Formula 1 e come ho detto all'inizio Luca penso che abbia anche cambiato la storia della Ferrari in un certo qual modo, abbia segnato molto anche lei. Sì, diciamo che è stato forse il primo pilota a tradire la Ferrari, perché sì il rapporto era incrinato, ma il vero tradimento, e questo è un ricordo da bambino che ho ben chiaro, in quella gara in cui lui fece le valigie e se ne andò il sabato pomeriggio invece che fare le prove, perché per lui non si doveva correre, io mi ricordo gli urli che faceva in casa mio padre, dicendoglielo di tutti i colori, perché bastava montare in macchina e portare a spasso la macchina, perché c'era in palio anche il campionato costruttore quell'anno se non ricordo male. Quindi fu vissuto veramente con un grande tradimento, soprattutto il suo addio che disse io fra due anni vedrete dove sarò, vediamo dove sarà la Ferrari. Due anni dopo vinceva con chi l'ho sostituito. Quindi forse è per quello che lui è rimasto legatissimo, perché è un amore che lui ha vissuto come un tradimento reciproco anche nei suoi confronti, perché vediamola dalla sua parte, lui dopo tutto quello che aveva fatto, 40 giorni dopo un incidente in cui è morto praticamente, è rinato, ti faccio la gara e ti dimostro che il coraggio ce l'ho, ma tu non mi segui in questa battaglia per la sicurezza, perché è stato romanzato nel film in modo forse esagerato, ma in realtà un altro cambiamento che lui ha dato la Formula 1 e non solo la Ferrari era questa sua richiesta di sicurezza da pilota nei confronti sia della federazione che dei team, perché allora i piloti erano un po' canna da macello. Scusami se ti interrompo, però nel film, e questo lo voglio dire perché in tanti prendono proprio come oro colato quello che viene raccontato da Rush, voglio ricordare che Rush non è un documentario ma è un film tratto da una storia vera, quindi delle situazioni sono state modificate, tant'è che non è vero che Lauda ebbe il coraggio di avere paura quando decise di ritirarsi in quella tempesta di pioggia sul Fuji, in realtà c'era un accordo tra i piloti, c'era un accordo che in realtà poi non è stato rispettato da James Hunter, perché è stato minacciato dalla McLaren di assolutamente non doveva scendere da quella monoposto, cosa che invece Nicky fece e che andò a suo svantaggio perché di fatto poi perse il mondiale e James optò per la decisione più ovvia diciamo. Io per quello che ricordo di James Hunter, lui era il guascone del gruppo, dei piloti, ma non era uno stupido e anch'io ricordo che in quei giorni non c'era la comunicazione che c'è oggi, i servizi che c'erano oggi, ma parlavano tutti di questo accordo tra i piloti che avrebbe consentito di trattarli in maniera diversa, poi cominciò a girare questa chiacchiera che l'opportunità c'era e convincere James Hunter, non so in che modo, a salire in macchina e uscire, che bastava ripeto veramente quello, anche se era pericoloso ti prendevi i tuoi rischi con calma, però effettivamente ci fu un tradimento anche da parte di quell'accordo di piloti, poi tanti altri vedendo partire lui partirono anche gli altri facendo fare la figura di quello che è rimasto col cerino acceso a Niki Lauda, però da ferrarista in quel momento, in quegli anni tu comunque lo vivevi come un eroe lui, hai fatto quello che hai fatto, sei sceso dal mezzo al fuoco, hai paura di un po' d'acqua tra virgolette hai ragione ma affrontala e dimostra che hai ragione e invece non lo fece, quindi questo secondo me è stato quel finale che non è un finale e che lo ha riportato poi in Ferrari con un altro ruolo ma che non lo ha mai separato completamente da una squadra così, forse un altro pilota avrebbe chiuso completamente e se ne sarebbe dimenticato della Ferrari, lui non l'ha mai fatto, come gli altri piloti di area germanica diciamo così perché abbiamo visto Schumacher, Vettel, lui dimostrano il loro affetto in maniera diversa cioè sono un po' più freddi, noi lo diciamo sempre italiani nei confronti dei popoli del nord, però lo dimostrano con questa continuità con cui ha aiutato e lavorato con la Ferrari perché ad esempio quando passò dalla Ferrari alla Mercedes come consulente io l'ho preso come un altro tradimento ma ci stava. Guarda se dobbiamo parlare anche dell'aula della Mercedes dobbiamo fare una puntata di un'ora e mezza e questo non ce lo possiamo permettere quindi purtroppo dobbiamo finire qui la nostra chiacchierata però non è detto che riapriremo il discorso in un altro appuntamento perché secondo me ci sono tante cose belle da fare emergere sui campioni del passato che gli amici che magari la seguono seguono la Formula 1 da poco tempo non la conoscono. Voi stapevate queste cose di Michi Lauda, cari amici che ci seguite, se volete darci la vostra opinione scriveteci nei commenti qui sotto, iscrivetevi anche al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite e io lo capirete vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sport Today. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!